Sospensione cautelativa dei contratti a far tempo dal prossimo 31 dicembre. Questa è la decisione presa dal presidente della provincia di Barletta Andiatrani, Francesco Spina, sulla questione relativa al progetto Garanzia Giovani, dopo le polemiche sollevate dal centro-sinistra nelle ultime settimane. E questa è la decisione presa al centro-destra, dopo aver acquisito il parere del segretario generale e alcune sollecitazioni, aventi ad oggetto una verifica delle procedure in questione, vi è stata la richiesta di sospensione del procedimento in oggetto a far data dal prossimo 31 dicembre. La sospensione costituisce un opportuno atto di tutela da parte della provincia di Barletta Andiatrani, ha spiegato in una nota ufficiale il presidente Spina, che consente di approfondire l'istruttoria ed evitare la proroga per un altro anno, nell'ipotesi in cui emergano vizi chiari che infisino la legittimità dell'intero procedimento. Il termine del 31 dicembre 2014 viene individuato per evitare che i lavoratori contrattualizzati possano avanzare eventuali richieste ricercitore nei confronti dell'ente provincia. Sulla questione della legittimità degli atti, il presidente Spina ritiene la sospensione una soluzione migliore rispetto a quella dell'annullamento dei contratti, così come richiesto al centro-sinistra. Sono convinto che le procedure adottate dai nostri funzionari e dipendenti siano conformi alle prescrizioni normative, ma ritengo che la sospensione da me richiesta anziché l'annullamento ex abrupto richiesto da alcuni consiglieri di opposizione dell'intero procedimento contemperi al meglio l'esigenza di un approfondimento ispirato ai principi di legalità e trasparenza con l'esigenza del rispetto dei diritti contrattuali acquisiti dei lavoratori.